In occasione delle festività natalizie, Sermidiana vi vuole proporre un menù natalizio, composto da quattro portate, un antipasto, un primo, un secondo ed un dessert. Provolone dolce in crosta con miele di castagno e noci. Ingredienti Provolone dolce a cubetti Pasta fillo Miele Noci sgusiate Filo di porro sbollentato per legare Spennellate con burro fuso la pasta fillo Deponete al centro il provolone dolce Arricciate la pasta formando un fagottino che legherete con il filo di porro Mettete in forno a 200 gradi per 3-4 minuti Risotto allo zafferano con piselli, zucchine e carote Ingredienti Mettete la cipolla tritata finemente ad appassire in un tegame con un po' d'olio, di acqua ed eventualmente peperoncino Aggiungete i piselli e fate cuocere per 3 minuti Quando i piselli sono metà cottura aggiungete le zucchine tagliate a dadini Aggiungete il riso e fatelo tostare A questo punto aggiungete brodo vegetale preparato in precedenza E la carotina tagliata a listarelle Portate il riso a cottura Aggiungendo brodo via via che si ritira A fine cottura aggiungete lo zafferano diluito in un po' di brodo vegetale E fate finire di ritirare il brodo Impiantare cospargendo con il formaggio grattugiato L'onza di maiale con composta di mele e frutti di bosco Ingredienti L'onza di maiale condita con sale e pepe Olio di oliva Per la composta di mele Ingredienti Mele da cuocere Private del torsolo e tagliate a spicchi Frutti di bosco Zucchero Limone Bacche di ginepro Per preparare la composta mettete le mele, i frutti di bosco Lo zucchero, il succo di limone e le bacche di ginepro In una casseruola con un po' di acqua Fate cuocere a fuoco lento fino a quando i frutti saranno teneri Fate sobollire fino a quando il liquido sarà evaporato Dopo aver condito la lonza di maiale L'andate a cuocere in una padella con un po' di olio A fuoco medio per 3-4 minuti da ciascun lato Fino a quando la carne sarà dorata e ben cotta Trasferite la carne su un piatto E componete il piatto stesso Con le mele E i frutti di bosco Dessert di kiwi e ricotta Ingredienti Kiwi maturi Ricotta Cioccolato fondente grattugiato Zucchero Vanillina Limone Zucchero a velo Mandorle grattugiate Sbucciate i kiwi e tagliateli a fettine sottili Grattugiate la buccia del limone In una ciotola Lavorate la ricotta Lo zucchero La vanillina Il cioccolato E la buccia di limone Prendete una formina o coppapasta Non troppo piccola E foderate il fondo con metà delle fettine di kiwi Sovrapponendole leggermente Spolverizzate con lo zucchero o velo E riempite con il composto di ricotta Sopra la ricotta fate un altro strato di kiwi Aggiungete lo zucchero o velo Conservate i dolcetti in frigorifero per almeno 30 minuti Sformate i dolcetti in piatti singoli E decorate con mandorle e cioccolata tritata Sperando che il menù che vi ho presentato Incontri i vostri gusti Vi auguro tutti un buon Natale Con la cucina di Sermi Diana Una faccia Grazie 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 a tutti.